Non è andata questa? Non c'è? Prego, vado a buttarmi per lei. Rosa, pink, vai. Perfetto, vai. Non è andata quella, ma c'è? Prego, vado a... Aspetta. Ciao, mutante per te. Non le usi? Ma tiene come ricordo, dai. Come ricordo? Oh, hanno i buoni. Ragazzi, hanno i buoni. Vai, perfetto. Yes. Prego, madame. E scappate. Perfetto, grigio. Eccola qua. Vai. Ehi, eh. Questa non è andata, ma non c'è. Ma che pure, non è un olore solido. Dopo, dopo. Prego, madame, vado per te. E vai. Una foto qua, queste belle donne. Vai, vai, buttate. Facciamo una foto collettiva, vai. Tutte e tre, vai. Tutte e tre con le mutanti in mano, vai. Bella, celestina, complimenti. Cos'è la pesca di beneficenza? Prendi uno, fatti tre. Tutte e tre, guarda. Tutte e tre, avanti. Vai. Siamo belli. E vai. Prego, madame. Vai, mutante per voi.